La Lasea SRL ad occuparsi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'Aro Canicattica-Mastra. Lo ha stabilito il Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha messo la parola fine su questa controversa e lunga vicenda della giudicazione dell'appalto. L'Aro aveva indetto un pubblico incanto per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio di Canicattica-Mastra per un importo complessivo del servizio della durata di 7 anni pari a 30.182.124 euro oltre IVA. A seguito dell'espertamento della gara, la Lasea veniva individuata quale aggiudicataria definitiva, ma la Ciclat Trasporti Ambiente, con sede a Ravenna, rappresentata in difesa dall'avvocato Lucia Di Salvo, ha proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tarsicilia con istanza cautelare avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto. Si costituiva in giudizio la Lasea SRL con il patrocino degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione dell'istanza cautelare. Il Tarsicilia, ritenendo infondate le censure formulate dalla ricorrente principale, rigettava la richiesta di sospensiva, ma avverso il provvedimento di rigetto emesso dal TAR, la Ciclat Trasporti Ambiente, sempre rappresentata in difesa dall'avvocato Lucia Di Salvo, proponeva appello. Anche davanti al CGA si costituiva in giudizio la Lasea SRL, rappresentata in difesa dall'avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell'appello cautelare, eccependo l'assenza del pregiudizio grave e irreparabile in capo all'appellante. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, condividendo l'eccezione formulata dall'avvocato Rubino, ha respinto l'appello cautelare proposto dalla Ciclat, confermando l'ordinanza di rigetto emessa dal TAR. Pertanto anche i giudici amministrativi di secondo grado hanno avallato la validità della giudicazione dell'appalto disposta in favore della Sea SRL, fino all'udienza di merito di fronte al TAR di imminente fissazione.